Lungo il Tevere Roma premia i fuoriclasse della box italiana. Mesiano, Vianello e Marsili sono solo alcuni dei campioni che hanno partecipato alla seconda edizione del Galà dei Campioni di Box. Un'edizione che si caratterizza per la forte presenza di donne. Proprio un'esibizione di bugilato femminile ha mostrato il fascino di una disciplina che attrae sempre più ragazze, che uniscono così, al piacere dello sforzo adrenalinico, la capacità di sapersi difendere. Per chi non è pronto per l'agonismo sono state pensate discipline come la box in action, che fonde la tecnica del pugilato con la musica. Ad accumunare i campioni intervistati sul palco e gli amatori tra il pubblico, la passione per uno sport che richiede tanta potenza fisica, una grande dose di lucidità mentale e la volontà di scontrarsi ad armi pari. Uno sport che non a caso è stato definito la nobile arte.